La finale è sempre emozionante, speriamo che vada bene. Questo campionato è molto bello, emozionante, sia l'over 35 che l'over 39. Mi esalto come non mi sono mai esaltato nelle categorie inferiori, quindi mi piace. Speriamo di continuare così fino agli over 50. Per il prossimo campionato speriamo di arrivare di nuovo in finale, anche magari nell'over 35, non sarebbe male comunque. Va bene così per il momento. Grazie. 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 Grazie.